In occasione della prossima giornata della festa della mamma, la direzione regionale INAIL Lazio e Donne Europee Feder Casalinghe hanno organizzato la terza edizione del Mamma Day. Come nasce questa iniziativa? Beh, diciamo che questa iniziativa nasce dopo l'assicurazione che INAIL ha fatto con le casalinghe e il rapporto che INAIL ha ormai da anni con la Feder Casalinghe. Nel senso che noi promuoviamo, per il loro tramite ma per le attività che facciamo, la cultura della sicurezza in ambiente domestico. La manifestazione si pone due obiettivi. Informare sui pericoli che si nascondono tra le mura di casa e sui conseguenti rischi di incidenti domestici e formare sui comportamenti corretti che possono evitare gli stessi incidenti. Un grande contributo all'iniziativa è stato dato dall'assessorato al lavoro e formazione della regione Lazio. Come nasce questa partnership con l'assessorato? Noi, INAIL, che si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha teso quella grande rete che serve per evitare che succedano infortuni. Non può essere una sola istituzione che si occupa di questo. Quindi quella rete, quel lavorare insieme ci permette di ridurre gli infortuni in ogni luogo dove avvengono. In strada, in casa e sui luoghi proprio di lavoro, come anche a scuola. Quindi tendiamo a tessere quella rete di relazioni che ci permette di promuovere la cultura della sicurezza e fare vigilanza su ogni luogo di lavoro. In base alle statistiche, le persone coinvolte nelle proprie abitazioni da incidenti domestici sono annualmente più di 3 milioni. Gran parte di essi sono imputabili a un'inadeguata cultura della sicurezza e della prevenzione. Mamma Day punta a sensibilizzare su questo argomento le mamme, punto di riferimento sociale, culturale ed economico della famiglia.